2, 2, 2, 3 qualcuno ha mai detto di stare zitta? vieni con me abbiamo fatto un tetta tette ci siamo conosciuti poco fa perché io stavo venendo col mio petto lei col suo petto abbiamo fatto un tetta tette tetta tette? siccome ci siamo già incrociati poco fa praticamente quando ci siamo abbracciati perché lei è la prima volta che è venuta qua la tua prima volta come ti è sembrato l'impatto di entrare a questo locale? una bella prima volta una bella prima volta non è come un primo giorno di scuola no? no 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 assolutamente no un'epervescenza un'agitazione voi a casa e comunque quelli che guarderanno i video non riescono a percepire quello che sto sentendo io lei sta tremando come una foglia solo a pensiero di stare in parte al sottoscritto vero vero sono tutto un tremore come una foglia al vento agitata che senti agitata vedi com'è che facciamo conoscere ai signori ai signori un'altra sala andiamo a conoscere anche la sala del Cantinone un'altra sala noi la chiamiamo Cantinone però questa qui una volta era la sala io la chiamavo la sala delle torture perché il covento di Nonato è aperto non solo la domenica ma anche venerdì e sabato con celibati, nubilati e coscritti e solitamente noi i nubilati li portiamo qua e incateniamo le spose sì perché dobbiamo farle capire che stanno facendo un errore giusto? sì per confermi confermo guarda accendiamola io sono la prima a dire che è un errore sposarsi sei simpaticissima ma da dove arrivi? Mantua ma le Mantovane mamma mia sono simpatici intanto è passato un ragazzo ma è riuscito a passare sotto allora la tua prima volta non abbiamo capito il tuo nome Agostina Agostina sai che io sono DJ Carlone e noi ci vediamo più tardi perché fra poco si comincerà veramente a ballare adesso si finisce di mangiare esatto e dopo si parte con il ballo e quindi cosa auguri a tutta la clientela? buona serata buon divertimento tantissime belle cose un bel locale effettivamente è una cosa molto bella bella grazie allora rifacciamo come all'inizio tette a tette oh sì 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 oh sì 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 bello ciao ciao ciao